Ciao amiche e ciao amici, questo video per parlare del feticismo. Il feticismo intanto è prevalentemente maschile. Non sono molte le donne, diciamo, che tendono a vivere feticismo. Cosa si intende con feticismo? Che cos'è il feticismo? Beh, intanto in termine tecnico è sostituire una persona, diciamo, con un feticcio. Il feticcio può essere una parte del corpo di questa persona o una qualunque cosa. Per dire, il feticista del piede è colui che sostituisce, diciamo, tutte le zone erogene della persona e lui trasferisce la zona libidica sul piede. Quindi, diciamo, che si eccita, ad esempio, a baciare i piedi, a leccarli, alle volte anche le scarpe fondamentalmente. Quindi diventa un feticista legato alla scarpa. Poi i feticismi sono i più svariati, diciamo così. Le situazioni possono essere le più tante. C'è chi vuole vedere una donna con un certo tipo di abbigliamento, magari legato alle calze, piuttosto che ad altre cose. Oppure in certi atteggiamenti, c'è il feticismo del fumo, della donna che fuma. Oppure mille feticisti, quelle dell'abbigliamento legate alle varie, diciamo, immaginari dall'infermiera, alla suora, alla poliziotta, piuttosto che ad altre situazioni. Sono mille, sono svariatissimi, tantissimi. Moltissime situazioni. Molti uomini feticisti poi, diciamo, amano essere sottomessi da un certo punto di vista. Quindi si propongono come schiavi, tra virgolette, in un rapporto di coppia master-slave, oppure un rapporto di coppia sadomaso, in cui gradiscono, diciamo, essere umiliati. Ora, uno dice, ma perché tutte queste, tutti questi svarioni, diciamo, rispetto alle situazioni tradizionali? E poi perché il feticismo è prevalentemente maschile? Ma le spiegazioni possono essere tante. Dal mio punto di vista, da livello emotivo soprattutto, sono legate, diciamo, a una deviazione del bersaglio. E al poter conclamare, diciamo, anche, ad esempio, in modo nascosto, l'omosessualità. Perché legato soprattutto ai casi in cui, diciamo, il maschio tende a proporsi in maniera sottomessa e cerca una dominazione. Questa dominazione spesso prevede delle pratiche in cui, diciamo così, si propone più come donna, donna sottomessa, che come maschio. Quindi la parte virile del maschio viene messa da parte. E questo è un modo, un surrogato, per viversi con una donna, diciamo così, un rapporto tutto sommato omosessuale, che viene tenuto nascosto. Nella donna questo si manifesta molto di meno perché l'omosessualità è molto più diffusa, in modo molto più tenue. Sono molte le donne che per una donna non è un problema, ad esempio, scambiare fusioni con un'altra donna. Non viene neanche socialmente, come dire, passa abbastanza inosservato. Mentre due uomini che si scambiano i fusioni, magari abbracciandosi, così camminando per dire abbracciati, generano, diciamo, a livello sociale subito un'attenzione. Anche perché poi l'omosessualità maschile, da un certo punto di vista, è più virulenta. Nel senso che il rapporto, essendo penetrativo, lascia il segno. Mentre nella donna è tutto più legato alle coccole e carezze, fondamentalmente. Poi le altre motivazioni che vedono, diciamo, il maschio più connesso, diciamo così, ad un feticismo è che il maschio è molto più visivo rispetto alla donna da un punto di vista... Cioè ci sono donne molto visive, però da un punto di vista sessuale, quindi in ambito sessuale, affettivo, spesso è il maschio molto più visivo. La donna tende ad essere uditiva, cenestesica. Cioè la sua eccitazione passa prevalentemente attraverso la cenestesi, cioè il contatto fisico, e ad esempio anche le parole. Anche una donna che è molto visiva, eventualmente si crea delle immagini mentali e prove eccitazione, diciamo, poi attraverso il contatto e attraverso anche la parola, cioè quello che gli viene detto. Difficilmente attraverso la pura visione, diciamo così. Cosa che invece per il maschio, anche maschi magari che sono cenestesici, o quindi tattili, oppure uditivi, da un punto di vista erotico, sono comunque eccitati dalla visione, dalla vista, dal senso della vista. E quindi il feticismo va a coprire molto questa situazione, perché i feticismi si manifestano prevalentemente proprio attraverso il senso della vista. Questo ovviamente, diciamo, del feticismo è un surrogato della sessualità e va a coprire anche un'altra paura che hanno molti maschi, che è quella dell'impotenza. I due tarli, diciamo, che hanno i maschi sono quelli dell'omosessualità e dell'impotenza. L'impotenza quindi non essere sufficientemente virili. Ed è ovvio che un rapporto feticista non mette in discussione questo, perché di fatto non devono dimostrare nulla sessualmente. Si limitano, diciamo, non so, ad esempio, nel feticista del piede a baciare un piede. Poi dopo, questa eccitazione che incamerano la sfogheranno, diciamo, da soli, diciamo, attraverso l'automasturbazione. Ma questo non implica un, come dire, o non ha un impatto emotivo, per cui non ha ansietà, non genera ansietà da prestazione. Quindi è tutto molto più semplice e ritualizzato da questo punto di vista e non devono andare a scontrarsi contro questa sanzione, questa paura, anche perché magari fallisci oggi con una, fallisci domani con un'altra, alla fine inizi a prescriverti qualche difetto. Diciamo, queste sono le varie motivazioni che poi, diventando abitudine, si consolidano, perché poi agisce un effetto valanga. Quando parte qualche cosa che poi tende a consolidarsi, diventa un'abitudine e diventa poi più difficile venirne fuori. Poi come quello che inizia a bere due bicchieri di vino, scopre di essere socialmente più attivo e poi dopo non riesce più a fare niente se non beve, perché diventa, si innesca un'abitudine e si innesca una dipendenza. Poi alla fine anche quello del feticismo diventa una dipendenza. Però, ripeto, anche qua, se uno se la vive bene e non ha voglia di cambiare, deve felice così, non c'è nessuna controindicazione di fatto, insomma. Bene, per questo video è tutto. Chi si iscrive al canale avrà la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo alla cortesia di condividerlo con i tuoi amici. Ciao!